Vorrei ora approfittare della presenza della dottoressa Ottaviano e vorrei nuovamente qui anche il dottor Forbice perché vorremmo fare, è arrivata da Roma proprio ieri, una tessera di socio onorario che per noi ha un'importanza molto particolare. Questa tessera è dedicata e vorrei qui la signora Pallini. Pietro se la puoi accompagnare. Vieni Maria. Questo momento ha per noi un'importanza, vi dicevo, molto particolare perché questa tessera è dedicata ed è per Paolo Ghiandai. La signora Pallini, lei non ne vuole parlare, ma è la persona che ha donato alla Lilt la nuova sede in via Abba che è l'appartamento dove noi potremmo fare gli ambulatori per la vita, che è il progetto che sta partendo, che sono i nostri ambulatori di prevenzione in collaborazione con molti specialisti dell'azienda ospedaliera e con i medici della dottoressa Roncella che ancora ringrazio per tutto l'ambito senologico. Questo evento viene a chiudere la campagna nastro rosa che era proprio dedicata alla senologia. E quindi vorremmo fare in questo momento, se vi accomodate, grazie, questa consegna ufficiale. Il nostro vicepresidente Pietro Di Sotto ci consegna ufficialmente la tessera che io lascerei alla dottoressa Ottaviani che oggi rappresenta la psico-oncologia della Lilt. Ringrazio la signora per la donazione, per l'aspetto materiale che è indubbiamente importantissimo per noi essendo associazioni di volontariato abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti senza cadere nell'errore di piangerci addosso perché riusciamo a fare molte cose anche con poche risorse e tuttavia una sede dove avviare dei percorsi di prevenzione gratuiti il più possibile a basso prezzo è preziosissima per la Lega Tumori, quindi ha anche un grosso aspetto simbolico perché questa donazione oltre che dare un aiuto materiale comunica che non siamo soli noi della Lega Tumori ma che abbiamo intorno una rete di persone che ci sostengono anche materialmente sostengono la nostra azione di volontariato ma soprattutto c'è una grande ricaduta sulla popolazione tutta perché sapete benissimo che gli screening non coprono tutte le fasce di popolazione coprono soltanto le popolazioni più a rischio quindi c'è bisogno di prevenzione soprattutto nelle fasce non coperte dagli screening regionali quindi grazie a nome di tutta la Lega Tumori e soprattutto di noi che ci occupiamo di benessere del malato grazie signora io vorrei aggiungere soltanto una cosa che persone come questa signora sono veramente rare per non dire rarissime la generosità che lei ha offerto perché di solito poi queste cose quando avvengono si lasciano in eredità una donazione come questa sono veramente cose incommiabili perché si dà senza chiedere nulla ovviamente quindi soltanto per il piacere la generosità di poter dare a un'associazione, un ente come la LILTA che si ormai da 90 anni si occupa appunto di difesa, prevenzione di questa grave malattia grazie signora, grazie molte applausi non teniamo gli altri di queste belle parole no, dico, io sono un mezzo sono stato un mezzo perché Paolo quando morì nel 79 era un poco piccolo ragazzo non aveva ancora 11 anni e lui pensò di lasciare i suoi risparmi alla Lega contro Tumori allora si conosceva solo quella quindi tutto è partito da lui io ho fatto ho seguito la scia basta così grazie a lui